Ragazzi, oggi scopriremo tutti qualcosa di molto importante Free Builder, Creative Warrior, nabbi come Shane Che tipi di giocatori su Fortnite siete? Io sono Babbo Natale Sì Uoh, io sono una renna Cornuto Beh no, comunque oggi grazie al nostro Xela Che è ufficialmente l'editor più forte d'Italia Dato che nessuno è ancora riuscito a battere Cioè, sta facendo queste cose adesso Mentre condivide su Discord Dopo Shane Sì, certo Sei proprio forte così, no? Lui le sta facendo tutte la prima, ma guardalo Adesso è in condivisione pure, sta usando la connessione Ma anche io uso la connessione per editare Tu usi la connessione per far vedere quanto sei in Abbo Comunque ragazzi, oggi vedremo che player siete Prima però mi raccomando, arriviamo assolutamente a 10.000 mi piace Dovete mettere un like per ogni edit di Xela Ma soprattutto Vi ricordo che se inserite il codice Shiko in supporto a un creatore su Fortnite E ci taggate in una storia su Instagram In cui shoppate qualsiasi cosa nello shop Noi reposteremo la storia E in più risponderemo i vostri messaggi Tutti i giorni Ok ragazzi, oggi anche noi proveremo a identificarci in uno dei tipi di giocatore E iniziamo con il primo che ce lo spiega Xela Che cos'è lui? Allora, lui è un competitive player che gioca nei partite in arena Ok Come me Non è molto veloce ad editare ma ha una mira spaventosa No, non con la mia Ha un brain incredibile Ok, vediamo un po' ragazzi Allora, competitive player è la prima categoria Quindi Figo Eh dai Cioè Ma fa queste cose in arena però Ha 8000 punti già Fai caso alla mira Guarda che mira ha Ok, ok Vedo che ha una qualità assurda di gioco Cioè Non sbaglia un colpo Ok Non è velocissimo a editare Questo qui è il nemico Come lo vede? Questo è dalla parte Esatto Oh cavolo Non ha neanche visto E' molto famoso Infatti si trova anche nel team di Mongrel Nei Fades quindi Ah è nei Fades? Sì è nei Fades Attenzione Quindi diciamo che i competitive player hanno tanto brain e tanta mira Due cose che non mi contraddistinguono tantissimo Vero Vero Anche come utilizza la cipolata Cioè Ormai Pochi lo fanno Vedi come mette le scale girate Cioè sono cose Come usa le ragnatele Solo un vero competitive player può fare queste cose Però diciamo che è lento Ma sembra che debba pensare prima di fare qualcosa Sì però Beh lento Allora no è velocissimo nell'uccidere perché fa tanti danni perché prende la mira proprio Sembra lento però in verità è super fluido quindi sembra lento per quello Sì non è che shaker ha fatto Esatto Però quelle cose che fa vanno a segno Ma guarda ma c'è È mega chill Poi si vede che fa un sacco di Cioè fa pochi movimenti Esatto Muove poco è tutto preciso esatto Cioè risparmi energie per non aver mal di polso Lui potrebbe essere molto più veloce però fa solo quello che è necessario E tu Xela sei un competitive player? Beh ultimamente sto giocando molto arena però Ma non mi sembra che questo sia il tuo stile di gioco Epp passiamo alla prossima categoria Io non mi definisco competitive player Io sì Non è vero tu sei Nabbo andiamo Io mi definisco questo e anche i prossimi Ok Xela questa è la seconda categoria E come si chiamano? Questo fa parte della categoria dei freestyler Quindi quelli che Quelli che fanno rap Ah no ok E no 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 Quelli che free buildano Che si mettono in creative e free buildano Però lui è particolare Lui è uno smooth player si chiama Quindi praticamente gioca da pad Ed è Adesso lo vedrai Ed è fluido Oddio Ma ha un contorno intorno al personale Ma va in slow motion No vabbè però guarda quello che fa Ma va in retro Ma cos'è un camion? È un Sì Ma raga Che figo bro Sembra Ma cosa fa parkour mentre gioca? Ma è fortnite bro Ah ho capito ho capito Allora questa è la categoria di quelli che non servono tanto in partita Cioè queste robe qui che sta facendo sono Tipo Questa è figata e basta Sì sono super inutili ma bellissime da vedere Ha anche cambiato skin intanto Esatto Cos'è sta cosa? È architetto player Smooth architecting si chiama bro Ma è figo perché si spaccano le robe È bello perché non si capisce nulla Cioè cosa fa gira Chissà questo fa i progetti prima di fare i video Chissà però se in un 1v1 funzionano No ma è impossibile Ragazzi c'è una cosa A 5.000 like Luke proverà a fare Ma cosa a 5.000 like mi spacco le caviglie Ma sì col pad Guarda questo fa i parkour mentre sale Ma serve solo per fare i video questo credo Ma sai anche perché in un fight uno ti spacca una struttura e non riesci più a fare niente Sì fa un colpo di R ed è finito Però è bello allora è molto lento ma molto bello Abbiamo visto tutte robe molto ma molto lente Mi identifico anche in questo Ma cosa ma tu il parkour lo fai e tiri due parolaccine bro Col pad anche se Cioè i freestyler questo sono Praticamente non servono per fightare ma sono belli da vedere Io da switch giocavo così Fanno tipo gli show però io me lo immagino ad una fiera un tipo che si mette lì E c'è il pubblico intorno che lo guarda a fare queste cose Uno schermo da mille pollici Da 6 triliardi di con lui che salta tra i buchi dei muri Da 6 milioni di mignoli bro Ok il nostro Joel Tadge che cos'è invece un E' sempre un freestyler ma è uno che fa parte di una categoria che si chiama Shakers Shakers sembra una marca di patatine Hanno le sensibilità altissime fanno cose che non ti fanno capire nulla Bro io ho la sensibilità altissima tutti me lo dicono che sono che l'ho esagerata Sono lui Sono uno shaker Sono uno shaker Ah è shaker Ah sono uno shaker Sono io guarda anche io buildo così Così è vero Ma sembra velocizzata la clip Ieri in pubblica eri così tu Certo che ero così Ma non è che è tua Dio ma non si capisce nulla E' quasi più bello vedere questo perché ti sembra che faccia robe assurde Davvero bro ma è una tua clip secondo me Ah c'è scritto in alto sinistro è scritto gluk Gluk? Si è mio alter ego Ma comunque sono io dai un po' sono uno shparek E' vero anche secondo me sono uno shbrand Un po' mi identifico come shaker Qui facci caso questo ho un tappetino Bro ma ho ucciso le scimmie Secondo me usa i tappeti di casa per giocare Perché se no il mouse dove lo muove Eh bro secondo questo qui lo attacca alla macchina fa un giro in autostrada Quelle che vedi sono le clip che escono Sì ha le tappezzerie quelle là indiane capito super lunghe Da quello che so questo ha 50 e 50 di sensibilità Metri quadri È fortissimo Comunque gli shakers sono finiti passiamo direttamente Io per ora mi identifico in uno shaker Shane tu? Ma io in tutti quelli che abbiamo visto abbastanza Ma tu sei il nab e basta Ok se siete nab e ragazzi mettete mi piace Comunque questo è un rider È un guidatore Esatto è un rider Ma un corridore lui Va in moto Lui è un creative warrior Lui è un creative warrior Creative warrior Io conosco Quando mi allenavo bro usavo le sue mappe Praticamente lui non è tanto Cioè è veloce come lo vedi Però soprattutto lui è forte a fightare Adesso lo vedrai Ah quindi oltre a fare tutte le build Si concentra anche poi a uccidere il nemico Esatto Non è che fa solo freestyle Guarda però che edit Infatti lui è il creative warrior più famoso del mondo Momentaneamente E lo è da tipo due anni Ma cioè gioca senza edit a rilascio Allora devo dire che fa impressione Ok Ha una mira devastante Ha una mira devastante Cioè quindi lui ammira Non solo lo ammira bro Muove lo schermo velocemente Shakerà Fa freestyle Fa un sacco di roba Però non è forte in competitive Eh secondo me però potresti provare Cioè cavolo guarda quanto sei forte Che io? No non dico Tè dico lui Ah lui Dovrebbe provare a fare competitive player Eh ma non è detto Magari sei fortissimo meccanicamente Ma poi hai pochi materiali E diventi scarso Oppure c'è la safe Ci sono le rotation Magari è forte È proprio solo un creative warrior Leona mi rinche di Delle meccaniche assurde È assurdo infatti raga Però comunque Shane Tu non eri così forte È inutile che fai tanto il figo Le perdevi anche tu Un sacco di uno v uno Io nel capitolo uno ero così Non è vero Nella creativa del capitolo uno bro Sì certo Che non esisteva Ah beh comunque lui è un creative player warrior Escare E infine ragazzi abbiamo l'ultimissimo tipo di player Io per ora mi definisco uno shaker breaker E voi cosa siete? Xela raccontami un po' Che cosa è lui? Lui è in parte Lui è un freestyler Vabbè pure lui Però lui è velocissimo Secondo me il player più veloce del mondo momentaneamente Ma a editare o a buildare? A editare e a buildare Cioè quindi ti ha battuto in velocità Tu sei più veloce in Italia E lui è più veloce nel mondo Vabbè non si capisce niente qua È vero Che sei abituato a fare Senza nemmeno guardare Ultimamente mi sto basando molto su di lui Sui suoi video E infatti ultimamente sono diventato Ma come fai a basarti su un video? Cosa devi fare? Allora ok Ma lo metti a rallentatore per vedere cosa fa Ma si vede qualcosa a rallentatore? No io lo riesco a vedere Perché io sono abituato a farlo Anche mentre gioco Ok uno due Mette edita Sposta Vedi già a rallentatore Comunque ti perdi qualcosa bro Mette un muro Edita Apre Mette Oh mio dio Ma raga ma anche a rallentatore è illegale Ma come fa? Ecco tu editi così a rallentatore Sì Io edito così ma non a rallentatore Cioè che cavolo È un creative warrior freestyler Quindi tipo me Ok È praticamente uno che non fa capire nulla Ok quindi è uno che shakera Mentre fa freestyle in creative warrior mode Vediamo Ok Vediamo Oh mio dio Ma dai ma ha messo anche l'effetto per far tremare lo schermo Non si capisce davvero niente bro Ma pensi a una persona che guarda il video Cioè cosa guardi? Ok proprio si mette sul divano e dice Ok O si mette in bagno e sta facendo la cacca fatta Perfetto Mi guardo un po' di video rilassanti su Fortnite Sì Comunque Se ci fai gasto non è Se ci fai caso il video è fake Perché nel senso È velocissimo però sono più clip Sono tipo nove clip tagliate Ma poi tra l'altro vedo che ha messo tipo la Cioè mette tipo un effetto che ti faccia sembrare Che lui fa Vedi che fa tipo Quindi lui è un faker Andiamo a vedere che tipo di giocatori siamo noi Ok ragazzi allora diciamo che ho capito che per definire che tipo di giocatore sono Devo utilizzare una tattica ben precisa Ossia io in creativa non sono fortissimo Nel senso so fare i 90's Non so fare i triple edit E non sono bravo neanche con i retake Però Frano mi aspettavo fossi bravo Bro stai zitto che tu sei stato categorizzato come nabbo Sela tu come ti identifichi? Secondo me boh fra i creative warrior e i freestyler Ok fra creative warrior e i freestyler Io sono Invento una nuova categoria adesso Sia un tunneler Perché sono molto bravo a fare i tunnel E li so fare anche scivolà Non è vero Però sono molto bravo Oppure sono un normale builder Però dato che sono intelligente Shaker o mentre buildo Quindi divento uno shaker Guarda bro Guarda come sono uno shaker Cioè sembrano uno shaker Davvero bravo Grazie mille Grande Assurdo Posso shaker ancora di più? Guarda faccio Mamma mia guarda quanti edit Sembri quasi mio Hai visto bro? Cioè shaker tutto E poi guarda divento anche un creative warrior Perché è sciotto PUM Se c'era il nemico sarebbe morto 200 200 Sì Comunque ragazzi mi raccomando Scriveteci nei commenti Che tipo di giocatore siete voi Su fortnite Secondo me nessuno di voi è nabbo Tranne luca Tranne shane E per ora Noi non possiamo fare altro che salutarvi E ringraziarvi Perché nei commenti Ci vediamo al prossimo video Ragazzi salutate Bella 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 Bella